ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata ai parafarmaci ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo il parafarmaco goccia e a cosa serve goccia ea un parafarmaco appartenente alla categoria degli disinfettanti per uso umano e commercializzato in italia dall'azienda list srl unipersonale informazioni commerciali titolare list srl unipersonale concessionario list srl unipersonale categoria di appartenenza disinfettanti per uso umano forma farmaceutica gel confezioni goccia e gel mani instant 500 ml goccia e gel mani istantaneo 80 ml indicazioni igienizzante mani in gel istantaneo modalità d'uso applicare un'adeguata quantità di prodotto sulle mani strofinare fino a completa evaporazione il prodotto può essere utilizzato più a volte nell'arco della giornata descrizione e caratteristiche gel mani istantaneo a un igienizzante a base alcolica 70 per cento che non necessita n a copyright di acqua n a copyright di risciacquo pronto all'uso evapora rapidamente e garantisce un elevato grado di pulizia igiene aiutando a ridurre la carica microbica per eliminare germi e batteri per la pulizia senza acqua delle mani gel istantaneo con l'agente igienizzante arricchito da estratti naturali che permettono un utilizzo frequente del prodotto senza effetti irritanti la presenza di estratto di aloe vera dona sollievo alla pelle e svolge un efficace azione riequilibrante lenitiva l'urea favorisce il distacco delle cellule morte superficiali rigenerando cosale acute e lasciando la pelle morbida per combattere la secchezza cutanea sono state introdotte glicerina vegetale vitamina e dalle importanti proprietà idratanti rigeneranti ed emollienti permettendo al prodotto di essere utilizzato più a volte nell'arco della giornata alcol denaturato antibatterico estratto di aloe vera dermo purificante urea ammorbidente vitamina e antirossore glicerina vegetale idratante h2 o termale antinfiammatoria senza parabeni senza oli minerali senza siliconi senza sapone senza coloranti dermatologicamente testato non testato su animali avvertenze conservare nei contenitori originali ben chiusi in luogo asciutto e fresco evitare l'esposizione diretta alla luce solare fonti di calore e fiamme libere seguire attentamente le istruzioni indicate in etichetta uso esterno tenere lontano dalla portata dei bambini pao 12 mesi componenti e ingredienti alcol denat acqua water urea glicerina tocco feri l'acetate aloe barbadensis lea fiuice carbomer sodium idroxide parfum fragrance contiene acqua termale fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo para farmaco esaminato grazie a tutti